Bentornati su TrainFamilia, io sono Enrico e oggi parliamo di BoxplayFamily di Lishani Se siete alla ricerca di un'idea regalo dagli 1 ai 4 anni, BoxplayFamily si basa sulla metodologia Montessori ed è un gioco perfetto per i bambini per andare a stimolare la logica, l'autonomia e lo sviluppo sensoriale in questo gioco utilizzeremo anche la scatola sia per giocare e poi per contenere il tutto e volendo trasportarlo con la comoda maniglia presente nella parte superiore all'interno della scatola troviamo ovviamente le istruzioni facilissime da andare a consultare poi troviamo questa parte che andremo a costruire semplicemente tirando su le alette laterali che consentirà al bambino di andare a pescare le varie figure che saranno poi da inserire all'interno della scatola il bambino andrà a pescare tra uno di questi animali e le dovrà andare a inserire nel posto corretto le sagome sono tutte differenti quindi non c'è la possibilità che il bambino possa inserire la sagoma sbagliata nel posto sbagliato ma ogni sagoma ha il suo posto esatto e ogni scheda rappresenta una famiglia di animali differenti le lumache, le giraffe, la ranocchia, lo scoiattolo e infine le paperelle ci sono quindi sei schede differenti all'interno della scatola per quanto riguarda il gioco può essere anche un gioco perfetto da portare in viaggio infatti volendo è possibile portare con sé solamente le schede e inserire tutte le figure all'interno di un sacchettino per rendere comunque il gioco utilizzabile e andare a compattare quello che ci dobbiamo portare con noi si tratta di un gioco molto semplice nell'utilizzo, dà il costo contenuto quindi perfetto anche come idea regalo ed è perfetto sia per bambini che per bambine se quindi siete alla ricerca di un'idea regalo simpatica e divertente io qua sotto in descrizione come al solito vi lascio il link per questo gioco e se avete qualsiasi domanda potete lasciare sempre un commento qua sotto rispondo sempre a tutti se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdervi tutti i video che pubblichiamo ogni settimana su 3 in famiglia per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione ciao da Enrico ciao ciao Grazie a tutti.